Ciao da Franco, come mai se fosse così semplice investire in immobili, quindi guadagnare con questo settore, come mai non lo farebbero tutti? Questa è un po' la mail principale che ricevo diciamo un paio di volte a settimana, ne ho ricevuta una poco fa e ho deciso appunto di rispondere direttamente in video. Intanto quando si parla di operazioni concluse da parte di mie studenti, da parte mia eccetera, sembra ovviamente che sia tutto semplice, tutto facile fare questo tipo di plusvalenza, quindi guadagnare ad esempio un 30% su una cessione del compromesso o un 50, un 40% da un'asta immobiliare o strancio immobiliare. Allora perché non lo fanno tutti questo tipo di discorso se è così semplice? Innanzitutto chi si avvicina poi a questo settore immobiliare capisce ben subito che non è semplice come si possa credere comprare un immobile con sconto facendo semplicemente un'offerta inferiore, non funziona solamente così e quindi cosa c'è dietro questo business per poterlo far rendere e far diventare redditizio appunto tutto il meccanismo? Il sistema qual è? È molto chiaro, per prima cosa devi conoscere concretamente quali sono gli step per poter investire in immobili, investire in immobili significa tutto, significa niente, puoi investire in immobili comprando un immobile per andare al mare, non credo che ci voglia poi un grande scienziato, se hai il denaro puoi comprarti l'appartamento e andartelo a godere, non so se è proprio un classico investimento che ti possa interessare perché comunque per lo più ti toglie i soldi dalle tasche e non te ne mette, è più un godimento di un bene. Investire in immobili può significare opzionare un appartamento senza intestartelo e poi rivenderlo prima di andare all'atto, quindi in questo caso non usi i capitali, parliamo quindi di un investimento di trend immobiliare, può significare anche stracciare un debito di una banca o di più creditori per conto di un esecutato che vede il suo immobile andare all'asta e quindi senza denaro potertelo intestare cedendo appunto lo straccio con corrispettivo, quindi questo è un altro tipo di investimento. Ci sono tantissimi tipi di investimento e chi si avvicina a questo settore immobiliare subito capisce che non ha le possibilità, le caratteristiche di poter iniziare perché minimamente non sa da dove partire, quindi comincia a capire che non è semplice e quindi abbandona l'idea e magari si mette a scrivere e dice come mai se è così semplice non lo fanno tutti? Caro amico mio, l'investimento immobiliare è da sempre, da sempre, non solo in questo momento di post crisi, la cosa che ti permette di poter cambiare radicalmente la tua situazione finanziaria, ma ha delle regole ben chiare che se non conosci non hai la minima possibilità di poter giocare e operare in questo settore, quindi cosa vuol dire? Uscire dalla propria zona di comfort, cambiare radicalmente le proprie abitudini, quindi se sei abituato alle 5 del pomeriggio a uscire dal lavoro e andare magari con la tua famiglia o in palestra a fare quello che vuoi, l'investitore immobiliare quando finisce il suo lavoro inizia ad andare a vedere magari degli appartamenti, inizia a studiare la propria zona di investimento, inizia a studiare i prezzi a metro quadrato, incomincia a studiare da libri del settore, da corsi online, da seminari dal vivo, come funziona una determinata tecnica, quindi come si fa concretamente a guadagnare 30.000 Euro da una cessione del compromesso, come si fa da zero a stracciare un appartamento e poi guadagnarci fino al 50%, come si fa? Quindi l'unico modo che hai è quello di andare a studiarti queste tecniche, ma studiare delle tecniche comunque richiede impegno, denaro e quindi molti dicono vabbè non ne ho voglia, vorrei guadagnare ma senza fare niente. Una volta conosciute le tecniche devi poi iniziare a metterle in pratica, quindi ti sei esercitato, magari sei diventato un po' più capace, devi cominciare ad andare a trovare tutto quello che ruota, le persone che ruotano, i professionisti che ruotano intorno al settore immobiliare, avere contatti con l'agente immobiliare di fiducia, con il tuo geometra, l'architetto, la persona che ti fa il lavoro nell'appartamento, quindi devi agire. Molte persone non iniziano ad investire gli immobili semplicemente perché devono uscire dalla propria zona di comfort e magari sì, non sono proprio contenti della propria situazione finanziaria, sanno che non si possono permettere tanti divertimenti, tanti agi, fare delle programmazioni finanziarie a lunga scadenza, però comunque dici vabbè, intanto comunque mi accontento di quello che ho, non ho voglia di mettermi in gioco, non ho voglia di fare discussioni con la famiglia e gli dico che devo andare a vedere appartamenti. Ed è questa la motivazione per cui si cerca di rimandare o di trovare delle scuse comode a noi stessi per dire, insomma, e se fosse così semplice lo farebbero tutti. È una motivazione, è una giustificazione per non sentirsi in colpa, per non aver fatto un tentativo, magari attraverso il settore immobiliare, di cambiare la propria situazione finanziaria. Quindi nessuno dice che quando tu vedi su Facebook i risultati di studenti o di miei amici o miei risultati di operazioni concuse, di plusvalenze elevate, che sia semplice farle, dietro c'è tutto un lavoro di impegno, di sacrificio, insomma ci siamo fatti il mazzo per modo di dire anni prima per poter essere professionisti in questo settore. Un po' come un giocatore, uno sportivo, che tu vedi che vince la sua gara finale, sembra tutto facile, ma dietro chissà quanti sacrifici ci sono appunto dietro, quanti sacrifici ha fatto per poter arrivare preparato a quella gara e magari anche vincerla. Quindi avrà rinunciato a fare festa con gli amici, ad andare a girare con la fidanzata, magari ha fatto allenamenti su allenamenti su allenamenti. Quindi la differenza è tra un professionista e un amatore e quella del sacrificio e la voglia veramente di arrivare a concludere qualcosa di positivo. Ci sono persone che magari hanno anche concluso delle operazioni, non sono diventate ricche, si sono accontentate e poi si sono fermate e si sono un po' adagiate su se stessi. La cosa è che non ti devi fermare mai, devi cercare subito di capire quello che vuoi veramente te e se è quello di cambiare la tua situazione finanziaria perché hai compreso bene che nessuno lo farà al posto tuo, che non è possibile sperare di andare in pensione a 70 anni e che non è possibile pregare che il tuo datore di lavoro non chiuda mai perché magari tu rimani fermo a 50 anni, questa è la soluzione è quella di incominciare a mettersi in gioco e uscire dalla propria zona di comfort e si trova il tempo, l'hanno trovato in passato gli investitori che adesso hanno risultati, lo puoi trovare anche te, però sei solamente te che puoi farlo di metterti in gioco. È ovvio che nessuno ti sta dicendo in questo blog, in questo profilo Facebook o Twitter che investire nei immobili è una cavolata e basta uno schiocco di vita andare in un'agenzia a offrire meno e concludere l'affare. No, dietro c'è molto, ma molto di più. Una preparazione che tutti possono, tra virgolette, raggiungere grazie a internet, grazie alle informazioni che ci sono adesso su internet, però poi bisogna metterle in pratica e queste informazioni richiedono poi degli esercizi, degli allenamenti che se tu non svolgi ovviamente non concluderai mai niente. Era solo una risposta per chi credesse che i risultati che vedete sul blog, sul mio form riservato, nell'Academy Executive, in tutti i percorsi informativi, siano frutto di zero sacrifici. Le persone che sono venute in questi weekend nel home visit di Genova stralci hanno speso circa 1000 Euro per poter venire a vedere come si fa a investire in immobili con gli stralci immobiliari, toccare concretamente con mano il mestiere dell'investitore, quindi andare a vedere come parla con un esecutato. Queste persone si sono messe in gioco e hanno speso dei soldini. Non a caso questo servizio è stato subito praticamente esaurito in poco più di 30 giorni, nonostante sia un servizio appunto abbastanza costoso, tra virgolette, per chi magari spende quasi un mese del suo stipendio, quello è molto importante, però si sono messe in gioco e queste persone sicuramente fra 60-90 giorni avranno le conoscenze, la sicurezza, la certezza, la preparazione di poter parlare con una persona e magari raccogliere una deriga e prendere poi una proposta di stralcio e concluderle in questo caso. Quindi hanno fatto una scelta, sono usciti dalla zona di comfort e hanno appunto iniziato il loro percorso che li porterà a diventare degli investitori preparati e magari apprezzati nella propria zona di investimento. Ti ringrazio, buon business, ciao da Franca.